Avremmo pensato a un piccolo dono per le persone che sono ricoverate e questo invece per il reparto e ne farete ciò che vorrete. Un pizzico di dolcezza per tutti i bimbi che trascorreranno questa Pasqua in ospedale. I vigili del fuoco del comando Aretino questa mattina hanno così portato le uova di cioccolato al reparto di pediatria della Zandonato e quindi a tutti i piccoli pazienti ricoverati. Questa è un'iniziativa che noi vigili del fuoco abbiamo fatto anche nell'occasione della Befana e ci siamo riproposti di farla in occasione della Pasqua al settore pediatrico. Quindi questo tocco di dolcezza porterà un po' di felicità spero a questi bambini. Sì, sono felice anche se preferivo farlo con mio fratello e con mio papà, però sono comunque sia felice. Ancora un gesto così di solidarietà e vicinanza all'ospedale Sandonato di Arezzo. Noi eravamo un reparto molto più aperto anche per quello che riguarda l'intercambiarsi dei genitori, delle figure d'acquidimento. Adesso come tutti i reparti siamo un reparto molto più chiuso purtroppo. È sicuramente un periodo molto particolare, chiaramente la Pasqua è sempre un simbolo di speranza. Speriamo che possa esserlo veramente quest'anno in cui ne abbiamo particolarmente bisogno.